Carissimo Antonio, domani mattina parto per Lugano dove con il Consolato d'Italia e la Curia ci vescovibile Svizzera, presento un'opera di Paul Rubens, è una straordinaria madonna col bambino del 1617 appartenente alla collezione americana di Harry Ford. Purtroppo l'organizzazione dell'evento coincide con la data di inaugurazione della tua Antonia antologica e mi dispiace moltissimo, ti prego di scusarmi e salutarmi con affetto tutti gli amici presenti, verrò a vedere la mostra a settimana entrante, ti auguro ogni successo e ti prego di considerarmi tra i tuoi estimatori per il coraggio, la creatività e il sentimento testimoniata dalle due opere.